ciao a tutti sono paola castelli e sono la titolare della pen cosmetic bentrovati per la nostra consueta rubrica oggi vado a rispondere ad una ragazza che mi ha scritto perché ha un problema e dice ciao paola sono ilenia e nell'ultimo anno con l'uso di disinfettanti mi è venuta una forte dermatite sulle mani hai qualcosa per risolvere il mio problema certo ilenia ho la soluzione giusta per te io ti consiglio di mettere una due gocce di olio di argan abbinato a o lo yogurt corpo o il burro a seconda se preferisci sentirti la pelle perfettamente asciutta e in quel caso userei lo yogurt che a base di aloe vera e si assorbe immediatamente in pochissimi secondi oppure il burro che a base di karité e ci mette qualche minuto in più ad assorbirsi quindi a secondo della tua preferenza ti consiglio di ripetere questa operazione due anche tre volte al giorno e vedrai che nel giro di una settimana dieci giorni avrai risolto completamente il tuo problema aspetto le tue foto grazie e alla prossima ciao